ciao ragazzi nonostante ci sia il sole io sento sempre freddo un freddo cane questi giorni non posso andare più in edicola e allora mi rifaccio in altra maniera mi stampo i fumetti da me per conto mio per me solo senza alcun scopo di lucro guardate che bello questo nonostante ci sia il nostro corso La telecamerina è quella che è, la mia piccola telecamera non è molto buona, però è anche più piccoli, gli vecchi fumetti di furio, li li stampati per me, per me solo, qua, guardate qua, questo, e questo, posso zamparmi anche i vecchi ammanalqui di Felix, spagnoli, questo preservio del 22 se ne ho rubato errato, o 32, non lo ricordo proprio, non so, 32, ecco, 1932, guardate che carino che è, che liquido, naturalmente non è molto bene stampato, ma per me basta la mancia, mi ci diverto, vedete? Si vede molto male, purtroppo. La collana l'angente gigante, i primi 51 numeri, i numeri prima di Zagor, lo li stampate da me, questo è un numero della zubba rossa con storie scritte da Sergio Bonelli, non quelle del padre, lo ristampate, eccoli, 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 guardate, i pennevieri del padre, sono questi, ma le ristampate al formato astresa, guardate che belle, lo dovete comprare, la ristampano statica, queste sono le belle cose che mi stampo da solo, spero che Bernard mi passi altri episodi inediti in Italia di Black Mancegno, che lui è tradotto dal serbo in francese. Grazie a tutti.